Dopo l'incidente che è successo ormai sono nove mesi fa a Walter, il team di Walter deve continuare ad andare avanti, Walter mi ha chiesto se potevo seguirlo, io con grande onore con grande voglia, lo seguo, lo sto seguendo, perché è giusto mandarlo avanti, Walter è uguale a questo. Ciao 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 2015, un'altra maglia tricolore addosso, un valore speciale questa qui, la tredicesima ma forse la più importante per Walter che ha un periodo difficile e oggi l'ho sentito forte, deve tornare più forte di prima, quindi questa è tutta sua. Grazie a tutti